Ed eccoci qua con un altro dei nostri video e oggi quello che andiamo ad affrontare è un discorso abbastanza semplice, sempliciotto. Andiamo a vedere quali sono i differenti linguaggi di programmazione che bisogna conoscere, soprattutto in primis qual è il primo linguaggio di programmazione che uno deve conoscere, naturalmente quando è alle prime armi, per poter poi affrontare passo dopo passo ogni singolo software che si va e si andrà a sviluppare e poi giustamente qual è l'ordine corretto per imparare tutti gli altri linguaggi. Mi trasferisco subito sul mio computer così iniziamo a vedere un po' qualcosina nel dettaglio. Allora come puoi vedere dalla mia paginata, naturalmente adesso sono nel NOLOB1 quindi nella funzione principale del nostro PLC che senza di questo non può assolutamente funzionare. In primis quali sono i linguaggi? I linguaggi sono quattro, abbiamo un linguaggio che è stato quello nativo quindi il ladder, il famoso coppia, è il linguaggio a contatti che si utilizzava una volta dalla parte elettromeccanica che poi si è trasformato un po' tutto nell'evoluzione dei tempi quindi dalla parte elettromeccanica hanno cercato e sono riusciti a sostituire questo tipo di settore, questo tipo di argomento in contatti logici direttamente su computer e quindi anche i primi elettricisti, i primi tecnici, i primi manutentori utilizzavano questo linguaggio di programmazione perché innanzitutto dovevano riuscire a programmare in modo semplice, veloce e diretto senza stare lì a conoscere dei codici, delle stringhe, degli algoritmi super mega difficili da memorizzare, applicare, contatto. Noi avevano tempo da pensare, dovevano prendere il relay, il contattore, qualsiasi altro tipo di componente che era applicato su un quadro elettrico, un minicabinet e così via dovevano sostituirlo mettendo giustamente il PLC e in sostituzione a questo componente l'unica cosa che andava di moda all'epoca ma che va ancora tuttora era utilizzare il copp come linguaggio base per poter sostituire questi componenti. Naturalmente c'è stata una svolta perché da lì piano piano si sono introdotti diversi linguaggi di programmazione tra cui la VL che quello c'è sempre stato ma sotto sotto non si conosceva, si è iniziato a conoscere un po' coi tempi. La VL cioè l'STL in inglese è il linguaggio macchina, proprio il linguaggio che tu quando vai a scrivere ogni sua singola operazione, istruzione devi proprio andare a dire che cosa deve fare e quando farlo, proprio nel dettaglio, proprio prendi questa variabile e trasferiscila qui appoggiala qui su un'area di memoria, su un registro, fai questo tipo di operazione, prima fai il più, poi fai il per, poi fai il diviso, poi metti la virgola, poi convertilo. Ecco, nel copp casomai si riesce con alcune funzioni già create a fare tutto questo in una botta sola o in due o tre volte, tre operazioni e invece con la VL devi metterti lì passo dopo passo a elencare quelle che sono ogni singola istruzione. Mi ricordo quando scrivevo in VL tanto tempo fa, era davvero divertente perché riuscivo ad andare a creare delle cose molto complesse, delle istruzioni, degli algoritmi complessi perché giustamente andavo a scrivere come la macchina voleva, quindi a livello di conversione dal linguaggio in cui lo scrivevo, conversione in linguaggio macchina essendo lo stesso linguaggio io sapevo cosa andava a fare in modo definitivo il PLC. Non è che andavo a creare un'istruzione e da lì dopo doveva convertirlo in linguaggio macchina. Teni in considerazione che quando il PLC prende il tuo programma che hai sviluppato e lo applica nelle sue aree di memoria, nel suo cervello, lo deve convertire e in che linguaggio lo converte? Converte in linguaggio macchina. Quindi io scrivevo in AVL, che è linguaggio macchina, e lui l'applicavo in AVL, linguaggio macchina, quindi non faceva nessun tipo di conversione. Quindi però se devi programmare in COP, che è il primo linguaggio che uno impara perché è semplice ed è a contatti, proprio per questo, lo deve convertire in AVL senza nessun problema. Poi cosa succede? Un altro linguaggio di programmazione molto avanzato, dato che l'AVL, l'SITL, è un linguaggio a basso livello, c'è il suo corrispettivo, il suo opposto, il linguaggio ad alto livello. Il linguaggio ad alto livello è l'SCL, proprio detto così come acronimo, è un linguaggio strutturato, un linguaggio talmente avanzato che assomiglia, se uno vuole, se conosce altri linguaggi di programmazione, può assomigliare al C++, può assomigliare anche a un certo Java. Ormai ci sono tantissimi linguaggi di programmazione che basta che scrivi una singola riga e riesci a fare tantissimo. Ecco, l'SCL, essendo molto possibile a questi altri linguaggi di programmazione che all'interno del PLC, Siemens ed altri non è possibile applicare, puoi scrivere veramente poche righe di codice per fare eseguire delle operazioni, degli algoritmi, dei movimenti, delle operazioni strane, che casomai col COP1 non riuscirebbe, ma scrivendo veramente poco. Perché essendo strutturato questo tipo di linguaggio hai la possibilità di organizzare in maniera tale, in maniera flessibile, in maniera indicizzata, in modo tale che tu possa sempre scrivere argomenti, concetti, logiche complesse che, come esempio, il COP non puoi farlo. Ci sono alcuni argomenti, alcune logiche che col COP non puoi farlo. O ti trasferisci sulla VL o ti trasferisci sull'SCL. Addirittura con la VL ci sono alcune logiche che non puoi fare, perché se no dovresti scrivere papiri, papiri di codice. Ti ricordo, devi scrivere linguaggio in macchina con la VL, quindi dovresti scrivere veramente tanti papiri di codice. E invece con l'SCL ti bastano 3, 5, 10 righe, al massimo, per poter scrivere delle logiche molto complesse. Naturalmente poi ogni struttura, ogni blocco codice fa determinate cose, quindi se uno deve fare tante cose complesse deve scrivere tanti codici diversi, tante strutture diverse, o simili, o che si riescono a rilegare tra di loro. Uno degli ultimi linguaggi di programmazione che giustamente poi è stato utilizzato nelle fasi di evoluzione di questo PLC, ma di tanti altri, è il Graph. Graph è un linguaggio a fasi, un linguaggio a step, quindi quando si deve creare una certa macchina che deve lavorare step numero 1, fai così, step numero 2, fai così, step numero 4, fai questo, step numero 5, fai quest'altro. Quando uno deve essere molto sequenziale, senza stare lì a girare a destra a sinistra sul software, oppure fare cose abbastanza parallele, uno deve lavorare a fasi bene. Ok, fase numero 1, devi eseguire queste operazioni, poi finita questa devi andare allo step numero 2, fase numero 2, fai queste operazioni, fase numero 3, fai queste, fase numero 5, 6, 7, adesso naturalmente più fasi hai vuol dire che le tue lavorazioni sono multiple, quindi devi fare molte cose. Quando invece hai poche fasi vuol dire che devi fare poche fasi di lavorazione, quindi non è una lavorazione molto lunga e la sua ciclica è caso mai molto ripetitiva, molto breve. Poi giustamente dipende anche da quanto dura una fase, se una fase dura mezz'ora di lavorazione, vuol dire mezz'ora, 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 sono circa due ore di lavorazione. Dopo che sono finite due ore di lavorazione devi ripetere mezz'ora, 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 sono un altro ciclo e quindi questi, come puoi notare, li ripetiamo, sono il COP, cioè l'ADDER, l'AVL, l'STL, l'SCL e il GRAPH. Sono i quattro linguaggi di programmazione come te li ho messi in elenco, non sono le priorità giuste per come impararle. Io ti consiglio innanzitutto di partire col COP che è il linguaggio base, il linguaggio, non dico più importante però, è presente in tutti i software a livello mondiale, quindi se non conosci quello è difficile che parti anche con gli altri. Poi devi partire con l'SCL e inizi già ad andare ad altri livelli, così in modo tale che quando hai dei programmi da fare puoi affrontarli e soprattutto se il programma non l'hai fatto a te ma l'ha fatto qualcun altro e tu non sei in grado di leggerlo, almeno puoi leggerlo tranquillamente. Al massimo se lo sviluppo avviene ancora difficile però almeno sai intuire e capire cosa sta facendo quel programma. Poi io ti direi vai direttamente con l'AVL, cioè l'STL, inizi a capire come ragiona il PLC e poi passa al GRAPH in modo tale che se ti capitano delle macchine che devono lavorare a fasi puoi farlo tranquillamente con questo tipo di linguaggio. Naturalmente ogni tipo di linguaggio è sostituibile, cioè io col COP posso fare cose dell'SCL sì ma casomai alcune cose no quindi devo passare l'SCL obbligatoriamente. Stessa cosa con l'AVL, posso fare certe cose ma con l'SCL posso farne tante altre. Stessa cosa al GRAPH, col GRAPH posso fare certe cose, col COP posso fare certe cose ma con l'AVL posso farne tante altre. Quindi vedi sono quattro linguaggi di programmazione totalmente diversi che vengono utilizzati in ambiti diversi, in momenti diversi, quindi bisogna stare un attimino attenti anche a cosa vogliamo fare con il nostro linguaggio di programmazione. Se qual è il nostro obiettivo, che cosa vogliamo programmare, che cosa vogliamo creare, che cosa vogliamo sviluppare e in base a questo andiamo a share il linguaggio più opportuno. Naturalmente perché ti ho aperto l'ambiente di sviluppo? Perché direttamente qui puoi andare a crearti quelle che sono ogni singolo segmento in base alla lingua che vuoi utilizzare. Per esempio, se devi inserire un segmento normale, inserisci un segmento normale e poi dopo lo vai a programmare in COP, per esempio. Vuoi inserire un segmento in AWL? Inserisci un segmento in AWL e quel segmento lo vai a lavorare in AWL, eccetera, eccetera, eccetera. Vuoi un segmento in SCL e quindi lo vuoi andare a programmare in SCL? Lo inserisci e poi da lì ti metti a programmare in SCL. Ci sono i codici qua sopra, vai a inserire i codici, ci sono anche le istruzioni sul lato destro e vai a iscrivere quello che ti serve, direttamente qua. Naturalmente in un singolo programma non sei obbligato a usare solo un linguaggio di programmazione dall'inizio alla fine, puoi usarne diversi. In base a quello che devi fare, utilizzi quello più opportuno. Bene, se ti è piaciuto il video, lascia un commento, clicca il pulsante per iscriverti al canale, attiva la campanella in modo tale che anche il prossimo video, quando inizierò a farlo, sarà già visibile all'interno del tuo portale. Io ti ringrazio e ci vediamo. Ciao!